Mi trovo nella splendida location dell'azienda Malorgio, il giardino messatico. Oggi, sabato 25 settembre, si festeggia la fine della campagna della raccolta dell'uova. Incontreremo il cuore femminile di questa azienda, Miva Malorgio, e anche una chef, una donna chef pugliese, ma di stima nazionale e internazionale, che ha partecipato per tanti anni ad un programma televisivo famosissimo, che è la prova del luogo. Lei si chiama Palma Donovrio e ci racconterà che cosa ha preparato oggi. Sono accanto due splendide donne, da un lato Palma Donovrio e dall'altra Mimma Malorgio. Iniziamo con Mimma, raccontaci questa serata come nasce l'idea di questo evento, raccontaci anche com'è stata questa annata. L'annata è stata ottima, abbiamo fatto un buon raccolto e stiamo appunto festeggiando la fine della vendemmia. E questo capocanale, una festa oramai che non è più in uso, ma che ci riporta veramente alle vecchie tradizioni. Mi ricordo quando i nostri nonni ci portavano in campagna e poi alla fine c'era questa grande riunione, ci si riuniva, ognuno portava le proprie cose, si facevano queste lunghe tavolate nei vigneti, che era una cosa veramente spettacolare, che adesso magari si fa un po' fatica a riproporle ai giovani, perché magari, però veramente ci sono queste vecchie tradizioni che le stiamo un po' invece ritrovando. I nostri giovani si affacciano volentieri invece a questa, sia un po' alla campagna, alla campagna, alla nostra cultura, alle nostre usanze, ai nostri sapori. E queste sono tutte cose, quello che abbiamo preparato stasera, grazie a Palma, alla mia amica Palma, e sono tutte cose appunto a tema, a tema vendemmia. Quindi lei è stata bravissima, grazie a lei questa sera abbiamo potuto fare questa serata, questa cena, perché lei ha cucinato tutto con le sue mani. Io già a vedere queste prelibatezze è già un piacere per il viso, per gli occhi, chissà, per il palato. Comunque io ovviamente ringrazio Palma. A proposito di questi piatti, Palma raccontaci come avete realizzato e che cosa vediamo qui su questa tavola. In realtà questo che vediamo è un aperitivo col tema della vendemmia, perché in realtà sì, qui stiamo facendo e stiamo festeggiando una vendemmia. Per quanto mi riguarda è un momento emozionante, perché per la mia famiglia è la prima vendemmia, perché ho un ragazzo, mio figlio più grande, che ha 31 anni, un anno fa ha deciso di tornare in questa terra e ha deciso di fare il viticoltore. E quindi qualche giorno fa abbiamo fatto la prima vendemmia e questo è il nostro capocanale. Quindi è stata proprio una richiesta. E quindi io non mi è sembrato vero quello di poter fare qualcosa che avesse un tema di uva. E quindi c'è l'uva un po' in tutti i piatti che abbiamo realizzato. Dico abbiamo perché li ho preparati io, ma con la mia inseparabile assistente, che è una cuoca a domicilio che si chiama Lucia, e abbiamo preparato, quelli sono dei tartufi, lì dentro c'è un chicco di uva ricoperto di formaggio con della granella di nocciole e di pistacchio. Questo è un cheesecake di pecorino e fichi d'India. Qui ci sono proprio delle roselline di tagliolini fatte a mano con zucca, uva e pancetta, delle piccole crostatine di funghi e uva, e poi un'insalata di frutta di stagione, speck e primo sale. E poi ho realizzato delle focacce, un pane, ho preso dalla Toscana in prestito una ricetta, che è il pane di rosmarino con l'uva, in questo caso l'uva proprio della nostra vigna, del primitivo, che accompagnerà salumi, formaggi. Insomma, abbiamo utilizzato le cose di campagna, complessi gli allestimenti floreali con tutto ciò che viene dalla natura per intrattenerci, perché poi in realtà questa è una festa di famiglia, con gli amici, con chi ci aiuta in campagna, perché i protagonisti principali sono esattamente loro, che in campagna tutti i giorni fanno in modo che poi questa vendemmia, che ovviamente è stata straordinaria, grazie alla provvidenza del Signore, ma poi anche perché c'è un lavoro importante dietro questo. Quindi insomma l'uva rappresenta il simbolo di oggi, il simbolo della Puglia, che ha veramente tantissime combinazioni. Te ne vengono in mente qualche altra combinazione rispetto a già i piatti che hai preparato? Proprio con l'uva. Guarda, io in realtà avrei fatto, se avessi potuto, ma magari l'anno prossimo ci pensiamo, a fare proprio un live di cucina, una padellata di salsiccia. Noi abbiamo anche i nostri, noi nei nostri macellai con delle carni straordinarie, quindi una padellata di salsiccia e uva. E perché no, anche preparare una pasta agrodolce, dove il dolce poteva essere, ad esempio, il cotto di uva. Perfetto, io vi ringrazio, ringrazio Mimma, ringrazio Palma, è una splendida serata a tutti, un saluto alla Voce di Manduria.